Questo non è il solito video della Perugia Motore. Oggi non siamo in salone, oggi non vi parlo di macchine, oggi non vi spiego un nuovo modello, non vi faccio vedere colori. Oggi vi racconto una cosa per me molto molto importante. Come vedete la location è diversa. Oggi siamo nel mio ufficio, ci vedete sempre sui social, ma forse il mio ufficio l'avete visto poche volte. Sarà perché a me non piace stare in ufficio, a me piace stare con voi, ogni volta che entrano clienti mi piace veramente vivere la concessionaria. Ma oggi siamo qui perché, come vedete qui, e adesso lo apriamo insieme, mi è appena stato recapitato un regalo veramente, ma veramente fotonico. E questo è un regalo per me, ma in realtà per me, per tutti i miei collaboratori e anche per voi che ci seguite ogni giorno e che l'avete reso possibile. Ma prima di farvi vedere il regalo, per farvi capire quanto per me è importante questa cosa, per farvi capire quanto in questo momento il cuore mi scoppia di orgoglio e di gioia, devo fare un passo indietro. E per fare questo passo indietro vi faccio vedere questa immagine che è attaccata nel mio ufficio dalla fine del 2017. Perché la mia avventura in Suzuki e in Perugia Motori inizia nel 2017, anno in cui c'era stato dato un obiettivo abbastanza sfidante, ma comunque realizzabile, ma molto più basso effettivamente delle 500 targhe che abbiamo fatto alla fine del 2017. E come vedete, le abbiamo ampiamente festeggiato. Perché quell'obiettivo, che sembrava comunque importante, ma realizzabile, è stato veramente, veramente superato con 500 targhe che per una città come Perugia e un marchio come Suzuki comunque era veramente un obiettivo sfidante. Bene, l'avventura è andata avanti, la Perugia Motori si è trasformata veramente in quello che io desideravo, una concessionaria sempre, sempre orientata alle esigenze del cliente e soprattutto non del cliente soltanto qui sotto casa, ma dai clienti di ogni parte d'Italia, con consegna gratuita a domicilio in ogni parte d'Italia e veramente in questo anno vi abbiamo consegnato macchine in tutte le regioni. E ogni volta che mi chiamavate, mi scrivate su WhatsApp e mi dicevate Sara, è stato bellissimo acquistare la voi, è stata un'avventura incredibile, per me quello era il regalo più bello. E così andando avanti, ogni tanto corri corri e non capisci neanche dove arrivi, a metà anno siamo arrivati quest'anno a mille targhe. Pensate, nel 2017 chiudivamo 500 targhe, quest'anno siamo arrivati solo a metà anno a mille targhe e questa targa che vedete qui dietro me l'hanno regalata per ricordare che quella è stata la millesima targa di questo anno, soltanto a metà anno. Bene, l'estate è finita, siamo andati avanti, si è concluso l'anno e è arrivata per me una notizia incredibile. Anche quest'anno ci confermiamo come migliore concessionario d'Italia, ma questo riconoscimento quest'anno è stato così importante perché abbiamo superato le 1700 targhe, ci pensate, 1700 targhe che sono partite da Perugia, grazie a ognuno di voi, che è arrivato questo regalo che adesso andiamo a aprire insieme. E vi giuro, mi trema la voce e mi tremano le mani per quanto è bello. Ci hanno mandato anche la cornice, adesso lo incorniceremo, ma volevo aprirlo con voi. Allora, questa qui è una pergamena siglata a mano da Toshiro Suzuki, cioè da Mr. Suzuki e questa è una cosa per me incredibile e la traduzione di questa pergamena che vedete c'è scritto un ringraziamento per la nostra concessionaria come vedete Perugia Motori per l'impegno, la costanza, la determinazione, il cuore con cui ogni giorno abbiamo accompagnato voi nella scelta della vostra no auto. Per me è una cosa incredibile perché sono auto, sono pezzi di ferro, ma in realtà tramite questi pezzi di ferro abbiamo ogni giorno l'incredibile opportunità di accompagnarvi in questa scelta, di conoscervi e di vivere insieme questa avventura bellissima. E allora, questa pergamena, questo ringraziamento è per tutti voi che ogni giorno ci seguite e soprattutto per tutti i miei collaboratori con cui ho la straordinaria opportunità di lavorare per rendere insieme, per creare insieme una concessionaria del futuro. E io sono certa che questa avventura che è iniziata chissà dove ci porterà e so che il prossimo anno sarà ancora più straordinario. Grazie di cuore per aver reso possibile questo anno veramente, ma veramente fotonico. Grazie a tutti.